musica 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 grande progressione, grande ritmo l'americano, Rudolf, Rudolf,عة un'altra musica una nuova rispetto al russo che abbiamo visto anche il momento più incazzante la progressione di Rudolf ha voglia di arrivare là in alto sotto i grandi strapiombi dove la grande torre di destra butta fuori, ti butta proprio sotto sei tu che devi stagliare accanto lei ti butta, ti respinge come un'onda d'acqua qua ci sono solo delle poche le minime, giuste e indispensabili prese per provare ad andare oltre verso la fine e rimandare fuori a lei, Ilaria o somebody fast the action aerodrome per Juana USA oltre il polipe andiamo alla sede Euro vediamo se è stata la scelta giusta veramente dinamico coraggioso direi anche riuscire a pensare di passare con una thirty band evidentemente si sentiva di trovarla così e poi via Lì subito di nuovo a piantare i piedi, c'è un po' di superficie per rimettersi in modo ottimale, adesso c'è la moschettonata ormai che abbiamo capito che fa filtro comunque questa moschettonata, devi essere messo giusto oppure mai avanti poi è dura, infatti trova qualche problema, fatica, Rudolf Juana. Ancora, ancora, ancora sulle prese la nostra Ilaria, forza Ila, dai bene, forza Ila. Ancora, ancora, ancora. Ancora, Naila, Taito, Nakagami, Chappen. Dai Ila, bene, 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 dai Ila, si va avanti, forza, a lei Ila, a lei. Brava, brava, brava. Dai Ila, fuori, andiamo fuori, a lei Ila. Dai Ila, fuori, a lei Ila. Bene, bene, attorno a forza, dai sopra. Andiamo fuori, forza Ila, a lei. E c'è proprio Più di più d'Aila Ancora Ale Ale Ilaria Adonila Sì 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 sì